Aveva pulsi e caviglie legate Antonio Lizzi, 69 anni, pensionato, trovato senza vita riverso sul pavimento dietro la porta della sua abitazione di Contrada Marracola di Monteodorisio. Quando ieri sera alcuni vicini, insospettiti dalla posizione anomala del furgoncino del pensionato, hanno dato l'allarme, ormai non c'era più nulla da fare. Al momento del ritrovamento del corpo di Lizzi la luce era accesa e non c'erano segni di effrazione che facessero pensare ad un furto finito male, tant'è vero che si è pensato in un suicidio. Dunque potrebbe essere stato lo stesso Lizzi ad aver aperto al suo assassino che secondo le prime indiscrezioni da fonti investigative l'avrebbe strangolato. La morte per soffocamento però sarà confermata o smentita dall'autopsia che il dottor Pietro Falco svolgerà domani a Chieti nell'obitorio della Santissima Annunziata. La procura della Repubblica di Vasto nel frattempo ha aperto un fascicolo d'indagine contro ignoti per omicidio. L'uomo, ex operaio della SIVO G. Pilkington, era vedovo da tempo, ne aveva due figli. Saranno ascoltati nelle prossime ore da magistrati ed investigatori. Lizzi viveva solo nella casa che ora è sottoposta a sequestro. Restano avvolti nel mistero, ora data esecutore e movente del delitto. Sui primi due aspetti sarà decisivo l'esame autoptico ma sul resto dovranno fare luce gli inquirenti coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Vasto Giampiero Di Florio che fino all'alba di oggi è stato presente sulla scena del delitto per i rilievi del caso assieme al PM Gabriella De Lucia. Investigatori che torneranno lunedì prossimo con i RIS, il reparto di investigazioni scientifiche alla ricerca di tracce utili e alle indagini. La piccola comunità di Montodorisio, 2.500 abitanti, ad una decina di chilometri da Vasto, è sconvolta da tutto quanto è accaduto.